La preghiera Per conseguire la santità E per servire E questo è lo spirito Che è stato consegnato A nostro Padre Don Santo è stato chiamato Appunto da sopra A questo punto Quello di vivere la nostra comunità Che anche in questo momento È ligato Perché stiamo contando le spese Per questo lavoro Abbiamo problemi legati Allo scarso lavoro È riuscita a raccogliere Una sola di denaro che mette a disposizione Il tavolo come quelle che potranno essere Le sue intenzioni di servizio personali E a nome di tutta la comunità Mi sento di poter dire Grazie a Don Santo perché ci sei Grazie per quello che ci dai Per le persone Invegnate Perché mi continui Abitare la nostra comunità E lo spirito santo Possano rendere sempre più forte Il servizio che si chiamava La scogge E assicuriamo che Prendere tutti quanti Prendere tutti quanti Prendere tutti quanti E poi ci vediamo nel salone Che è anche uno spazio di salone Anzi Come ho visto dopo un anno fa Come andieri Le strade Prendono Si separa Ma non si chiamano Le prendono E' stato Prendere insieme E' stato Ci vediamo Che ci sono Prendere un po' di E' un po' di Emozione Come ci sono Di c'era Che è un po' di E' un po' di E' un po' di E' un po' di E' un po' di oggi stiamo andando qui per me no, ci portiamo insieme a pregare e che avvaloramente possiamo essere sempre questo segno profetico segno di comunione, segno di prese questa è la cosa che lo fa, che lo chiede grazie a tutti e poi continuiamo a camminare nelle nostre sedate, ma sempre nel punto di vista della preghiera che abbiamo fatto la preghiera e siamo fuori la prima lettura era dopo scusati che è meglio grazie ma ci hanno caduto tutti il tempo quindi se non avrebbe evitato il tappo non era più non era più come se c'era l'elettorato va bene, non sa c'è proprio la pace male Lino la ripresa sto facendo di mente capito, scusi già ooooh 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 Aoglian me Aoglian me Aoglian me